francesca hai baciato marco e marco è la primavera ciao andrea ci devi parlare ma con chi e serena allora rocco che coppia siamo noi e alessandra guarda ti do cinque minuti per mettere a posto questo casino che poi andiamo a lavorare e la gelosia di claudio e adesso vediamo se cambia i tasso isabella ferrari in cuore contro cuore quando le hanno scattate con la partecipazione di ennio fantastichini ritorna in prima assoluta stasera alle 21 su canale 5 e a ugo che gli regalo è lui il videofonino 3 ce l'ha già una bella super ricarica di natale che gli raddoppia il traffico invece di 25 si ricarica di 50 euro se ha in tre con la super ricarica raddoppi il traffico meredio christmas che mondo sarebbe senza nutella scopri come vincere i premi su www.nutella.it chatello chatello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti dispiace se viaggiamo qua dietro? È che soffriamo di mal di cammello. Torrone Sperlari. La dolcezza continua. A quando mai, bocca sana? Pensala come vuoi. Mi è venuto pure mal di gola. Se ti consola ce l'ho anch'io. Ecco, allora non parlare che stai peggio. Ah, tanto un verde. Allora su qualcosa la pensiamo uguale. Quasi. Mal di gola? Tanto un verde. Nebulizzatore per un'azione mirata, pastiglie per un'azione più diffusa. Così non va. Ma tu non avevi mal di gola? Passato. Mannaggia, tanto un verde. È un medicinale a base di benzina mina. Leggere il foglio illustrativo ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Con la ricaricabile Wind, l'esclusiva Winter Collection e gratis 30 euro di telefonate. Buon Natale a tutti. Li voglio lisci e morbidi. Nuovo Studio Line Hot Lisci de L'Oreal Paris. Crema termolisciante, specifica per forno e piastre liscianti. Liscia e protegge i tuoi capelli. Per un effetto seta che dura a lungo. Anche con l'umidità. È liscio, è hot e dura. Nuovo Studio Line Hot Lisci de L'Oreal Paris. Grazie, sono padrone di la revisione, ho fatto tutto io qua. Io so che cos'è il giornalismo. Allora siamo a posto. Siamo una provincia, si lavora, si vivacchia, si mordicchia. È arrivato Erminio Spampagnati. La vostra rivoluzione. Faccio come Robin Hood, rubo le immagini alla tv ricca per darla alla tv povera. Ah, una fiction in costume. È mezzo e mezzo. Oh, io qui ci ho messo risordi. Morirete tutti. Questa è vera, Arnia! Concorso, Miss Perozzo in the world. O la va, o la spacca. Ezio Greggio, Maurizio Mattioli, Cecilia Dazzi in O la va, o la spacca. In prima tv assoluta, da domani alle 21 su Canale 5. Il Natale Vodafone è tutto intorno a te. Bene, eccola qua. Allora... Grazie a tutti.